Piazza di Spagna, ovvero la chiesa Trinità dei Monti da un angolo solito, laterale, poi masterpieces di architettura, come si vede, fino a quando non si arriva al palazzetto Zuccari, dove avevano fratelli Zuccari, famosissimi, vittori italiani, e dopo che viveva la virgina di Polonia, Casimira, e così fino a altri masterpieces, però, inclusa come il palazzo, se lo vedete, ha la bocca spalancata, l'inghia, Grazie